buona serata sono Nello Dalbo vicepresidente dell'AMPI sezione sessantotto martiri di Gugliasco perché l'AMPI questa sezione è qua presente lo dico semplicemente perché il nostro statuto anche se non tutti sono della mia opinione si obbliga a difendere la Costituzione la democrazia è il miglior involucro per il capitalismo io te sono convinto non solo per l'autorevolezza di chi ha detto queste parole ma non è l'unica democrazia fascismo autoritarismo si contaminano io ho avuto la fortuna di avere un maestro che mi ha spiegato bene cos'è la democrazia cos'è il fascismo e come si fanno riconoscere visto che la resistenza ha scritto col sangue dei suoi esponenti la Costituzione tutto quello che contrasta la Costituzione è fascismo quando dopo un referendum parlo quello sul finanziamento dei partiti parlo dell'acqua pubblica vinto con milioni e milioni quasi come si diceva una volta una maggioranza bulgara chi dovrebbe recepire le indicazioni del popolo articolo 1 della Costituzione se ne sbatte quello è fascismo quando il primo maggio non posso entrare in piazza perché è un simbolo notav quello è fascismo mi impediscono di entrare in piazza anche quello è fascismo quando in un carcere articolo 27 mi correggerà la professoressa un uomo un detenuto si suicida esce volontariamente dal contesto umano c'è una violazione tremenda della Costituzione e per contro quando ci sono delle manifestazioni anche ad esempio delle detenute che facendo il sciopero della fame appoggiano danno vigore dicono che i partigiani che si sono fatti ammazzare avevano ragione questo è democrazia cosa possiamo fare e questo ce lo insegna la resistenza i partigiani erano diversissimi tra un partigiano iscritto al partito comunista italiano non più in Italia e un monarchico un badogliano c'era una differenza enorme c'era una differenza enorme tra un partigiano di stella rossa e un partigiano del pc ma cosa hanno fatto hanno cercato quello che poteva essere un minimo comun denominatore come ha già detto qualcun altro prima di me e hanno dimenticato hanno rimandato le differenze perché a mettersi di nuovo a litigare sulle differenze abbiamo avremo sempre tempo perché se litighiamo adesso sulle differenze chi ha interesse che noi siamo divisi sarà molto contento grazie compagni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti